Nel 2017, anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura, non potevano mancare alla città le iniziative realizzate da una delle sue istituzioni culturali di maggior rilievo a livello mondiale, l'Accademia Internazionale d'Organo Giuseppe Gerardeschi, che infatti ha approntato un programma dai concerti alle attività didattiche, ricchissimo di appuntamenti e con importanti novità. Per noi è il ventesimo anno anche dei Vespi d'Organo, quindi un traguardo piuttosto importante, abbiamo la bellezza di 26 appuntamenti distribuiti lungo il corso dell'anno per quanto riguarda l'Organo, però recentemente l'Accademia d'Organo Giuseppe Gerardeschi ha ampliato l'ospetto delle sue attività per quanto riguarda la musica antica, immettendo anche in maniera sempre più massiccia la musica clavicembalistica e anche la musica d'insieme. Grazie a degli strumenti che sono a nostra disposizione, mi spiego, finora avevamo soprattutto gli organi e gli organi di Pistoia sono qualcosa che attira molto l'attenzione, non soltanto locale, anzi direi più che l'attenzione locale, l'attenzione fuori di Pistoia. Abbiamo la bellezza di sei conservatori di Stato che vengono a fare attività dal nord al sud a Pistoia, abbiamo Trieste, abbiamo Firenze, abbiamo Pesaro, poi Raggio Calabria, Cosenza, Genova, l'ultima che si è aggiunta, più due istituti parificati, quindi un mucchio di gente che viene a Pistoia e poi abbiamo il fatto del Giappone, abbiamo diversi partecipanti di Shirakoa che hanno chiesto di trascorrere un certo periodo a Pistoia, sono già tre persone, poi in luglio ci sarà il Festival di Musica Antica e anche lì verranno un certo numero di giapponesi che si aggiungeranno agli italiani per studiare, quindi un'attività piuttosto complessa. Poi abbiamo appunto questa fortuna di aver trovato degli strumenti antichi perfettamente funzionanti, due flauti specialmente e un oboe del XVIII secolo e questo permette di fare attività specialmente in connessione con l'esperienza di un gruppo molto conosciuto anche internazionalmente che è il Rossignolo e i cui componenti sono anche docenti di questa scuola di musica antica. Sulla parte del programma che riguarda la musica antica in particolare che attività avete progettato? L'Accademia Gerardeschi si è in qualche modo ampliata e dalla già come dire celebre attività riguardanti gli organi ha compreso ultimamente una parte che riguarda la musica d'insieme, la musica per clavicembalo e comunque per le tastiere antiche, per il flauto traverso, per l'oboe, per il flauto diritto, per il canto barocco e quindi diciamo ci sono questi corsi che ormai da tre anni sono attivi stabilmente e hanno studenti che arrivano un po' da tutta Italia, qualcuno addirittura fuori dall'Italia, che sono i corsi ordinari. Dopodiché ci sono vari appuntamenti durante l'anno che sono in forma di masterclass a gennaio, aprile, luglio che invece attirano un pubblico più vasto normalmente e quindi molti studenti stranieri per esempio anche che vengono a perfezionarsi sugli strumenti dell'Accademia che come diceva il maestro Pineschi sono tanti e rappresentano un capitale importante per questa città perché fra gli strumenti a tastiera e gli strumenti a fiato che ci sono diciamo si pone in qualche modo all'avanguardia sicuramente in Italia e tra i massimi detentori di parchi strumenti in Europa. Quindi ci sono queste attività che corrono durante tutto l'anno. In più da quest'anno oltre dal 2017 diciamo, oltre ai corsi ordinari e alle masterclass che sono rivolti ovviamente a studenti di livello già avanzato, cominceranno una serie di collaborazioni con scuole e istituti per le fasce d'età che vanno dalle elementari alle scuole superiori, ai licei e quindi molti molti bambini e ragazzi verranno nel corso del 2017 a Pistoia per visitare gli strumenti, per fare attività in Accademia e tutto questo sfocerà poi nel novembre del 2017 in un piccolo festival per giovani musicisti che verranno che dopo le esperienze fatte in primavera e estate all'Accademia terranno un piccolo festival di musica diciamo barocca e classica e ci sono accordi con vari istituti comprensivi sia da Pisa, da Firenze, dalle province di Lucca, di Siena, ovviamente c'è la collaborazione con l'Istituto Franci di Siena che vedrà i nostri studenti là e i loro studenti qua, insomma veramente tantissime attività didattiche, le attività legate alla didattica e alla concertistica praticamente hanno raggiunto lo stesso numero di quelle organistiche per cui alla fine ci sono in tutto una cinquantina di eventi tra i vespri d'organo già citati e le attività diciamo legate alla musica da camera, la musica antica, concertistiche e didattiche.